buongiorno buona gente questo cordiale saluto vi giunge nuovamente dagli studi di etv per la nostra ma soprattutto vostra rassegna stampa buona venerdì santo 7 di aprile con temperature molto rigide al mattino e la sera ma un contesto di giornata bella bellissima come potete notare dalle webcam dentro le quali ci tuffiamo guardate per esempio san benedetto jesi il sole che fa capolino le autostrade già impegnate perché sarà una giornata quella di oggi da bollino rosso per i tanti trasferimenti si parla di 15 milioni di italiani che nel weekend approfitteranno del giustamente delle festività pasquali urbino magnifica meravigliosa piazza rinascimento e questo termine rinascimento ne abbiamo bisogno tantissimo in ogni settore cominciamo questo venerdì santo ricominciamo perché c'è anche chi ci segue dalle 6 45 vi ringraziamo ma anche nella riproposizione delle 13 30 e 14 e 30 dalla pasqua appunto con i suoi piatti tipici scriveteci mandateci una foto di quello che preparate o avete preparato negli anni scorsi sulla pasqua aggiungi un posto a tavola ma occhio ai rincari e del tema dei rincari ahimè tanto abbiamo parlato con le colombe in particolare che hanno visto aumenti anche più del 50 per cento l'alternativa è farsele in casa le notizie marchigiane scorpacciatona di cinque titoli una per ogni provincia spiaggia di velluto a senigallia ancora in primo piano coperta di detriti un bel biglietto da visita per pasqua chiaramente c'è dell'amaro sarcasmo nelle parole degli operatori che si auguravano la spiaggia potesse essere più avanti rispetto alla pulizia in vista dei turisti che comunque arriveranno di qui a lunedì giorno di pasquetta nel fermano scontro sulla steat alessandrini bacchetta ceroni i debiti noi abbiamo invece investito ecco le vere cifre troviamo tutto nel dettaglio dei giornali la cronaca da civita nuova l'ex moglie scappa con i figli in messico condannata per sottrazione di minore da cinque anni questo papà non vedeva le sue creature via l'elettricità dopo pasquetta lavori che si sono resi necessari ma appello degli operatori del food ad enel e istituzioni perché possano essere posticipati i lavori anche perché sono giornate di possibile attrazione turistica queste poi la cronaca ahimè da pesaro ragazzino di 13 anni investito in bici è grave sotto shock chi l'ha travolta ragazzino è ricoverato in ospedale in condizioni molto serie altre notizie ci spostiamo a portore canati amici amici della regione marche stazione senza rampe non c'è modo per arrivare in carrozzina fino ai binari e allora il cestista paralimpico gray costretto a strisciare sulle scale c'è un video che per il momento vi risparmio insomma fa male vedere questo sportivo questo questo uomo costretto a strisciare perché non ha l'utilizzo delle gambe la vicenda del da fano del ragazzo di 26 anni morto in un incidente sul lavoro oggi l'autopsia sul corpo del povero giacomo è indagato il titolare dell'azienda un atto dovuto per capire se ci fossero in azienda le condizioni di sicurezza rispettate blizza dei vandali senza cuore violate le tombe di due ragazzi una delle due storie ve l'abbiamo raccontata da chiaravalle l'altra viene da jesi quella di chiaravalle ce l'ha segnalata proprio la cugina di uno dei due poveri ragazzi che si sono ritrovati involontariamente protagonisti e le famiglie pensate lo strazio vergogna al cimitero di chiaravalle avete rubato sulla tomba di mio cugino malato di distrofia muscolare restituite i doni pasquali della sua mamma tra l'altro il furto sarebbe avvenuto come ci spiegava la cugina che ci ha scritto ieri proprio qui a buongiorno e tv monia mancini sarebbe avvenuto ad un anno esatto dalla morte nell'anniversario della morte di questo ragazzo che ha vissuto tra l'altro una vita difficile per via della distrofia muscolare vergognoso al cimitero di chiaravalle vergognoso questo il post che ci ha chiesto di condividere monia e noi l'abbiamo fatto si tratta di kevin boccolini vogliamo rivolgere un pensiero a lui ma anche a mamma gabriella e babbo fulvio che lo hanno perso così prematuramente la vera caratteristica di buongiorno e tv è il fatto che possiate seguirci oggi un po più in difficoltà dal canale 12 siamo a loreto ci scrivono che ci sono dei problemini di audio buona pasqua a tutti voi da tre castelli e si sente benissimo quindi c'è qualche problemino ma per fortuna non dappertutto ciao morizio volevo augurare a te una buona pasqua ci dice dora grazie dora buongiorno morizio è da novembre che cerco di prenotare due risonanze ma è possibile che non aprono le liste di prenotazione ho provato a chiedere a pagamento ma una costa 299 una 270 sono importanti perché post intervento pensate spendere 300 euro per una risonanza post intervento chirurgico grazie per questo sfogo abbiamo raccolto decine di messaggi simili al tuo purtroppo non è possibile che sia questa la sanità italiana andiamo di nuovo alle notizie marchigiane questa ha colpito molto l'opinione pubblica perché si tratta a proposito di sanità dell'ennesima aggressione vuole un referto ma non vuole pagarlo aggredisce medico e segretaria shock in ospedale a civita nova per la donna costole rotte e prognosi di 30 giorni l'uomo è stato invece denunciato aggredisce una segretaria e un medico radiologo caos all'ospedale di civita nova alta arriva la volante della polizia fermato identificato e denunciato dagli agenti un uomo che si era recato nella struttura ospedaliera per ritirare un referto a civita nova anche a civita nova si aspettano tanti turisti atteso il boom di presenze per pasqua e pasquetta lungo la costa ristoranti quasi ovunque sold out queste le due tre notizie principali per quanto riguarda il maceratese vi porto ora alla zona di ancona e provincia tanto li leggiamo tutti e i giornali ci chiedono anche notizie da macerata da pesaro macerata eravamo proprio poco fa il poliambulatorio aprirà rispetto a un tema che è stato molto divattuto in questi giorni siamo nella zona dell'ex umberto primo dopo la battaglia del giornale last annuncia la svolta tanto attesa finita l'estate inizieremo i trasferimenti lo dice il commissario storti si chiude così un'odissea di cinque anni il centro di ancona riavrà un punto sanitario questo poliambulatorio operai acrobati per pulire il park di capodimonte tra rifiuti e trappole in strada questo è il titolo del giornale poi picchiato per una ragazza il branco finisce in trappola non parlare con lei in quattro contro un diciassettenne sciocchi in piazza del papa egiziani denunciati pestato dal branco per aver chiacchierato semplicemente chiacchierato con una ragazza ma questa volta la polizia ha velocissimamente individuato e denunciato gli aggressori di questo diciassettenne l'ancona invece quindi parliamo di sport che va a picco colavitto pare sempre più al capoline all'articolo del collega peppe gallozzi che saluto lo conosco molto bene compagno di squadra è ormai ex per me lui spero continuerà a giocare della squadra dei giornalisti marchigiani squadra di calcio torniamo ad ascoli e san benedetto disco verde al super bonus ve lo abbiamo anticipato ora ve lo possiamo confermare decreto approvato in senato concessa la deroga fino al 2025 nell'area del cratere sismico e non solo c'è una deroga che riguarda anche gli alluvionati del settembre 2022 e ve l'ho letta anche perché c'è chi non ci crede c'è anche chi sponda terremoto del 9 di novembre da fano da pesaro anche da ancona lamentano il fatto che per il sisma del 9 novembre invece non ci sia stata questa deroga non varrà per loro il super bonus stato d'emergenza ancora in itinere molto fiducioso si dice su questo acquaroli la deroga per il super bonus ai terremotati si applicherà guardate c'è scritto nero su bianco amiche amici dell'alluvione del 15 settembre anche per gli interventi effettuati in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificati a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza ecco perché la stessa cosa ancora non è valsa per il terremoto del 9 novembre perché ancora non è partito ufficialmente l'iter cioè partito l'iter ma non è stata dichiarata ufficialmente la condizione di stato d'emergenza purtroppo c'è anche un po di burocrazia torniamo alle notizie di cronaca incidenti e disagi a porta cartara siamo ad ascoli alla porta d'accesso principale della viabilità per ascoli gasolio in strada svincolo chiuso apriti cielo incidenti e disagi il gasolio in strada ha trasformato la via in una sorta di saponetta incidenti a catena è stato necessario chiudere l'ingresso di porta cartara su questo diversi messaggi ricevuti liste d'attesa bloccate scatta la segnalazione alla corte dei conti poco fa sentivamo lo sfogo di un amico che ci diceva o di un'amica che ci diceva per una risonanza magnetica post intervento mesi d'attesa oppure quasi 300 euro ecco ad ascoli liste d'attesa bloccate scatta la segnalazione alla corte dei conti poi questa notizia di cronaca sempre dall'ascolano per la serie incredibile ma vero meriterebbe un approfondimento vero se riesco ad arrivare fino a pagina 20 veloci veloci allora si tratta di un incidente stradale e dell'ennesimo caso di road rage cioè la la rabbia da strada che qui è arrivata quasi all'ennesima potenza investe un ciclista e scappa purtroppo questo l'abbiamo raccontato tante volte qui c'è dell'altro automobilista inseguita e bloccata era in stato di alterazione psicofisica arrestato il compagno di lei che era seduto accanto in macchina perché perché per tutta risposta dopo essere stati beccati lui avrebbe preso a calci e pugni i carabinieri la notizia è resa ancora più chiara da un video che circola sui social io sto facendo la rotonda e tu mi vieni addosso alla macchina dice la guidatrice al ciclista per terra un video diffuso sui social mostra tutta la follia di quanto accaduto a cento buchi tu sei venuto sopra la macchina contromano dice nel video poi si rivolge alle persone che stavano assistendo alla scena e filmando ecco andate a favore della gente così di un ciclista quindi di nuovo al ciclista alzati vaffa e poi risalgono in macchina e scappano cioè gli dicono pure alzati che fai lì per terra l'auto fugge dopo l'investimento ecco un fermo immagine di quanto accaduto dove a monte brandone siamo messi un po così il clima pasquale il classico clima pasquale andiamo ai messaggi va che è meglio un buongiorno anche a chi ci sta salutando con il buon natale piuttosto che buona pasqua avenatura ieri facevano zero gradi credo forse anche oggi farà tanto freddo anche oggi soprattutto oggi domani torna su il clima però pioggia sia sabato sia domenica tra poco vi faccio meglio le previsioni grazie perché ci segnalate iniziative allora vi porto a sassoferrato amiche amici di sassoferrato sono stato da quelle parti qualche settimana fa presso il centro storico del castello venerdì 7 aprile 2023 alle 21 e 15 quindi questa sera la sacra rappresentazione della passione di nostro signore gesù cristo seguirà la secolare processione del cristo morto dalla chiesa di san francesco alla chiesa di san pietro grazie per la segnalazione fatelo fatelo anche voi se avete delle belle cose da anticipare perché possa la gente partecipare numerosa situazione in via martiri della resistenza vediamo un po sono appena passata a svuotare l'indifferenziata e hanno lasciato così erano stracolmi vergogna vediamo la foto un casino di immondizia se non altro guarda cerco di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno tant'è che a volte me lo bevo del tutto il bicchiere così non ci penso più che sia mezzo pieno mezzo vuoto faccio così un sorridendo ti dico almeno non c'è un divano non c'è un frigorifero non c'è un televisore non c'è un armadio ci hanno mostrato in questi anni anche foto di questo tipo via martiri della resistenza però evidentemente c'è bisogno di ripulire grazie per la tua segnalazione vi porto a pesaro amiche amici in questa raffica di notizie locali parco la falese anzitutto le priorità del neopresidente leva che chiede a regione comune più personale per il parco del san bartolo per quanto concerne invece lo sport bentornata vis ora puoi sperare i biancolossi ritrovano la vittoria 1 a 0 preziosissimo a limolese mentre invece sempre biancolossi ma in casa ancona la situazione è molto difficile mister colavitto sembra al capolinea lo dice il giornale il corriere pesaro condannato l'ex da incubo oltre 100 telefonate al giorno così evidentemente non si può fare arriva per lui la condanna polver oggi l'autopsia sul giovane ragazzo vittima di un incidente sul lavoro indagato il titolare questa ve l'avevo già anticipata e raccontata eccola qua morto schiacciato oggi l'autopsia su giacomo indagato il titolare dell'azienda ma si tratta a fano di un cosiddetto atto dovuto per poter fare tutte le verifiche del caso questo ragazzo giacomo 26 anni solamente tra l'altro poco tempo fa era rimasto orfano di padre l'avevamo raccontato anche ieri la cronaca da pesaro investito in bici un tredicenne cade e riporta un trauma l'incidente assoria il ragazzo è stato trasferito ad ancona in via bel gioioso invece grave una ciclista di 83 anni tre situazioni di incidenti in bicicletta nel giro di poche ore torno un attimino ai giornali nazionali per capire quali siano i temi più importanti c'è ancora berlusconi con le sue condizioni di salute in primo piano e sul corriere della sera e su repubblica berlusconi che reagisce alle cure è in corso la terapia ha telefonato alla meloni ha telefonato a salvini sembra insomma sia in via di recupero la malattia al sangue l'insufficienza renale la cautela poi i primi segnali di ottimismo questo il bollettino per il leader di forza italia altre notizie questa colpisce tanto dirigente d'azienda ce ne sono due simili per certi aspetti una viene dal trentino l'altra viene invece da imperia dirigente d'azienda sbranata dal rottweiler del fratello soccorsi bloccati dal cane carabinieri che devono intervenire e sparare all'animale ferendolo perché continuava a ringhiare mentre patrizia patrizia la marca 53 anni agonizzava purtroppo per lei nulla da fare la donna è morta successivamente in ospedale dopo il trasporto perché vi dicevo che c'è una notizia per certi aspetti simile condizioni diverse ma comunque un animale che sarebbe protagonista di una morte violenta siamo in trentino nella val di sole dove gli orsi sono abituali capita che si facciano passeggiate si incrocino gli orsi andrea papi morto sbranato forse proprio da un orso in trentino aveva studiato a ferrara si era laureato nel 2021 è deceduto dopo l'attacco di un animale selvatico in un bosco della val di sole si attendono i risultati dell'autopsia ma viste le condizioni del corpo del povero ragazzo l'ipotesi concreta è che sia stato pensate un orso buongiorno Mauri e auguri di buona pasqua grazie Cristian dall'Umbria Alessia buongiorno e grazie buongiorno Maurizio buongiorno a tutti approfitto per salutare anche i miei colleghi di lavoro visto che oggi per me è troppo freddo e non vado al mercato buone feste a tutti voi come darti torto caro Moreno oggi si battono i denti pensate chi lavora all'aperto Claudia buongiorno si battono i denti e allora torno un attimo al meteo piano piano però il sole scalda Urbino Fano guardate Fano illuminata quasi bruciata questa webcam dal sole San Benedetto del Tronto Ascoli Piceno Iesi qui in Dugio particolarmente Ancona il porto turistico che meteo sarà abbiamo prossime ore con piogge e temporali su quali regioni coinvolta anche la regione Marche tra oggi più che altro domani e dopo domani mentre invece Pasquetta dovrebbe essere salva ieri avevamo detto in realtà che pure per Pasqua erano più le vie di sole che le vie di nubi in realtà il meteo è cambiato venerdì 7 oggi c'è lo sereno poco nuvoloso qualche gocceria e la sfigatella la nuvola fantoziana su Pesaro per il resto bello è sabato che come anticipato arriverà la perturbazione tranne che invece sul pesarese per par condicio diciamo oggi piove solo su Pesaro domani solo su Pesaro non pioverà temperature però in crescita rispetto ad oggi con 0 gradi 1 grado ecco sabato 7 gradi 8 gradi fino a 9 gradi la minima su Ascoli e Pesaro però pioverà domenica 9 Pasqua Santa Pasqua ecco la pioggia la farà da padrona su tutta la regione non ci sarà soluzione di continuità lunedì 10 invece dovrebbe salvare il meteo la Pasquetta con temperature comunque meno rigide rispetto ad oggi e cielo sereno o poco nuvoloso qua e là quindi Pasqua male Pasquetta bene per fare una sintesi estrema della situazione da Pesaro a Fermo continuiamo a sfogliare insieme i giornali continuate anche a scriverci buongiorno di tv questa mattina a Pitino giornata molto bella saluti da Gianni grazie caro Gianni da Pitino il turismo invece si fa strada sui monti patto fra comuni con le vacanze di Pasqua un test decisivo in vista dei ponti di fine mese e dell'estate sulla costa balneari in fibrillazione a proposito di costa di balneari e di rabbia ci stanno scrivendo tanti tanti lavoratori e lavoratrici del turismo di Sanigallia che ci dicono uno per esempio dopo tutto quello che abbiamo passato questo non ci voleva si parla dei detriti in ispiaggia ecco la foto ma eravamo a Fermo e allora in taglio centrale l'accordo bipartisan sulle infrastrutture occorre ripartire l'appello da Fermo e poi pezzi di auto rubate nel fulgone ribaltato un classico incidente stradale ma non finiva lì in questo caso l'incidente sulla 14 fa scoprire una serie di furti scattata una doppia denuncia per ricettazione l'incidente fa scoprire una serie di furti in un furgone ribaltato sulla 14 spuntano 77 pezzi di auto risultate rubate in Puglia la scoperta della Polstrada dopo una verifica al deposito del soccorso stradale scattate due denunce per ricettazione ora si indaga per scoprire anche gli autori dei colpi a proposito di autostrada in questo caso incidenti più in generale viabilità già che siamo di fronte ad un periodo di viaggi allora voglio dedicarvi una verifica un'analisi del quadro marchigiano dove in questo momento mi pare sì di potervi dire che tutto scorre regolarmente già che ci sono vi do anche il conforto delle webcam per esempio siamo nell'area di Civita Navamar che tutto scorre regolarmente un'occhiatina anche verso Lido di Fermo la webcam è un po' appannata allora vado a recuperarne un'altra zona Porto San Giorgio dove spesso vi abbiamo invece segnalato di disagi no tutto ok chilometro 278 andate tranquilli per la vostra strada ma attenzione perché soprattutto domani arriverà un po' di traffico causato dal ponte Pasquale caro Pasquale buon ponte a te cieli devastati dalle chemtrails e glaciazione per distruggere le piante fiorite addirittura una situazione che ci viene segnalata da Appignano del Tronto la foto è bellissima non mi pare di vedere scie chimiche che sarebbero appunto le chemtrails comunque 6 gradi questo sì è il quadro da Appignano del Tronto ti ringrazio per la segnalazione se non altro del tempo del meteo non mi si apre il Carlino sto facendo una battaglia contro l'edizione del giornale che fa le bizze e allora vado a sfogliare le pagine interne dei giornali per leggere insieme con voi la buona notizia da Ancona in questo caso ex Umberto I c'è una luce fino a ieri si diceva ma no niente al poliambulatorio abbiamo aspettato per anni non ci sono spiragli e invece la svolta l'AST annuncia aprirà il poliambulatorio dopo l'estate prima la gara per l'acquisizione degli arredi poi il trasloco del presidio in corso l'accreditamento per l'ospis e l'RSA ci sarà un ospis e poi un RSA in quello che fu l'Umberto I l'ospedale in centro ad Ancona dopo i titoli appunto il poliambulatorio fantasma la vergogna biblica anche questo probabilmente ha creato un effetto sui decisori diciamo così vado ai giornali locali questa volta all'edizione online faccio a mano o in lavatrice vi porto ad Ascoli celebrare la via Crucis poco fa abbiamo ricevuto il bel messaggio da Sassoferrato questa sera alle 21.15 la via Crucis ad Ascoli dal centro ai paesi per vivere il venerdì santo il programma da Ascoli quella cittadina di Ascoli guidata dal Vescovo Palmieri si svolgerà questa sera alle 21 con partenza da piazza a Ringo ecco le altre manifestazioni in programma vado velocemente per esempio in Riviera a San Benedetto la rievocazione torna a distanza di cinque anni dall'ultima volta quest'anno la manifestazione potrà essere finalmente riportata in scena oltre 500 figuranti alla dolorata di Grottamare 500 figuranti alla dolorata di Grottamare bambini ragazzi giovani anziani lungo un percorso di circa due chilometri la processione del Cristo morto infine verrà riproposta anche a Ripatransone, Stella di Monsampolo e Montalto Marche ce l'ho fatta o sono riuscito a leggere anche questo San Pietrini invece che saltano via auto che volano a tutto gas che rischi in via a stagno queste le situazioni legate alle strade trappola nella zona di Ancona De Amicis si rompe un tubo acqua sulle pareti ha fatto il giro del web questa immagine con la parete completamente o quasi completamente bagnata si rompe un tubo l'acqua trassuda dai muri fino a macchiare la superficie esterna della scuola ecco quello che è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì alla scuola De Amicis in corso a Mendola dove la rottura di un tubo ha finito col macchiare anche la parete esterna ecco l'immagine, vado a recuperare al volo un paio di titoli che più di altri vi hanno accalorato sempre nel nostro giro marchigiano dell'informazione la stazione senza rampe, il cestista paralimpico Gray costretto a strisciare sulle scale non è giusto, porto recanati, speriamo che vengano presto presi provvedimenti e si risolva il problema la vicenda dolorosa del ragazzo morto in un incidente sul lavoro a soli 26 anni oggi l'autopsia su Giacomo, indagato il titolare poi blitz dei vandali senza cuore, violate le tombe di due ragazzi noi questa notizia l'abbiamo trattata con dettaglio ieri proprio con un nostro articolo vergogna a Chiara Valle, solidarietà ai genitori mi fermo grazie a tutti